Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Minecraft per un altro episodio, sono arrivati episodio numero 4, pare di sì, pare di sì, numero 4, numero 4, allora ragazzuoli, che cosa vi dico? L'ho ricchiato un po' off camera, ho preso, vabbè, la stone che si è cotta, il dark walk che ci serviva, i sapling di dark walk perché sennò non potevamo andare avanti e potenzialmente nient'altro, ho ucciso un altro paio di mooc ma niente di grave. Aster in questo momento non c'è perché si sta aggiornando, sta destrandosi, mi ha detto che tra poco arriva, comunque appena finito ci raggiunge. Che cosa andiamo a fare oggi? Come avevo promesso, dobbiamo andare a fare sia i campi di grano, quindi questa roba qua, non ho avuto modo di pensare, attualmente ho un campo di grano più efficiente perché potenzialmente sono sempre tutti irrorati, però non si irrorano da sotto, si irrorano dai lati, dai lati, sempre quattro in direzione li possono fare, quattro poi uno centrale, penso che la cultura intensiva faremo sempre, guarda, gli hawk però ci servivano perché ci serviva per fare gli slab in e tutto il resto, quindi significa che noi possiamo fare le slab bones, uno, due, tre, quattro, quelle che sono, che ci servono, non lo so, bam, più che bene, la stone ce l'ho, diciamo, ho tra l'altro così fai gli stone brick, come si fa la stone, aspetta, andiamo, tipo così, ok, la stone levica, come cazzo si fa? la devo cuocere due volte, aster, quando c'è non, quando serve non c'è, va bene, allora lasciamo a cuocere, e vaffanculo, e vaffanculo, vabbè, allora, slab vega, la, il primo coso, quindi la prima separazione la farei qua, però io capite, voi capite che, adesso ho scelto sta cosa di quattro che è una rottura di cazzo, però è figo, cioè ci sta un botto secondo me, quindi facciamo così, facciamo così, tac, questo no, ah, devo rifarmi un'ascia che mi si è rotta, di questa sono tre, fare il quarto, tac, e da qui ti stacchi e vai avanti, in questo modo, arriviamo più o meno qui e facciamo il campo di grano, giusta osservazione, il campo di grano è dispari, nove, questo è pari, non va bene, vabbè, brutalmente, è tornato a aster intanto, se si è aggiornato, si è addestrato di nuovo, è pronto di nuovo, allora, che cosa abbiamo fatto, semplicemente abbiamo ridotto la dimensione del pontile, facciamo una batteria molto grande, poi tutte dinamazioni più piccole, da tre blocchi invece che da quattro, quindi sti cazzi è la stessa cosa, praticamente, vabbè, adesso andiamo a sindacare, ci serviva, l'abbiamo fatto brutalmente, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, e ho, no, è più lungo, nove sono, è vero, sì, effettivamente sì, è nove per nove, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, in teoria non c'è basta, perché è nove per nove meno uno, che è quello centrale, che fa ottanta, vero? Aster quanto fa nove per nove meno uno? Molto bene E lo so io perché non funziona, perché purtroppo quando capisce Aster si incazza, la richiesta prima è Aster, non è Aster, e allora c'è questo piccolo problema, comunque vabbè, ok, fa ottanta, vabbè, era facile This is it, abbiamo tutto pronto Allora, allora, allora on dance Uno, due, tre, quattro, quinto Prendilo, prendilo Ok, ma non si è butta niente E poi ci so, uno, due, tre e quattro, sembra vero ma, ok, perfetto, perfetto Allora, la prima cosa a fare è sicuramente circondare questo di Slabega, per forza, uno e poi uno, due E qua, chilling, sicuro, fondamentale, ok, perfetto E poi iniziare a dargli di zappare Sicuramente lo zappiamo tutto Poi mettiamo, dobbiamo fare una cosa del tipo tac, così, così, così In modo tale che, vabbè, poi lo, lo vediamo È un po' brutto, effettivamente non è bellissimo Vabbè, vabbè, poi ci ragioniamo su bello brutto che sia Tac, 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 zappa, 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 zappa Poi magari lo facciamo largo due questo giretto intorno In modo tale da poter mettere anche delle fence carine tutte intorno, così da fare una cosa chill Perfetto E da qui inizio a dare il seme Tac, 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 tac E faccio vedere off camera Esatto, e questo è uno Pazzesco, direi Cioè, è carino oggettivamente A me mi piace Non è che mi dispiace sta cosa che stiamo creando Tac, questo lo fai partire così Bam È un po' forte È un po' forte sta separazione Pertanto andremo a fare degli Slabini Che sono sicuramente più carini Sta cosa effettivamente non si può vedere Non si può vedere È un troppo forte Cioè, veramente troppo, troppo forte Facciamo una crafting Che io bonariamente lascerei qua No Questo legno Dai Devo prenderci Perché il problema di camminare sul ghiaccio poi è questo Che Ah, per ora Tre Questo lasci qui Facile Ci sta, no, ci sta un bot Eh, ci serviva Gli Slab Giusto Tac Apparate che recuperi Poi Ah, è vero, posso fare l'armor stand Non che ci faccio un cazzo per l'armor stand Però Va bene Esatto E fai sta cosa Che ci puoi passare sopra Non lo so Ci poi passa sopra Però 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 Ci puoi passare sopra Sono d'accordo Però poi il problema È che non si chiude Cioè, nel senso È troppo Voglio mettere tipo Tipo delle fence Tipo dei cosi I muretti Ecco I muretti di cobblestone State insieme Così capiamo bene il da farsi Guardate Ah, io faccio una cosa del genere Tiro fuori 12 muretti Col 12 muretti Io posso andare qua E fare sta cosa Però vedete Non si collegano Non si collegano Non si collegano Casi Idee, idee Allora 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 Che cosa ho fatto? Abbiamo Per ora Allargato sta cosa Cioè Sono andato avanti Ho fatto anche questo contornino Perché voglio fare altre farm Questa è una farm per ora Manuale Perché non Non devi andare Cioè devi fare roba Cioè è manuale È una rottura di cazzo Automatizzeremo tutto questo Per automatizzarlo Mi serviva fare Questa cosa in acqua Cioè che significa Questo contorno qui In modo tale Qui metteremo delle fence Con un Del vetro volevo fare io In verità Perché volevo fare una cosina Un po' più figa Poi vediamo Volevo mettere il vetro In modo tale che i villager Che il villager Che poi metteremo qua dentro Non possa scappare Fondamentale sta cosa Poi vi spiegherò Perché facciamo La farm di pane Stessa cosa Per carote E patate In là in fondo E poi tutto quello Che altro c'è da fare Ma lo vedremo Tranquillamente Più avanti Puoi portare i villager Qua Sarà un cazzo di casino Però Però ci Ci pensiamo Ci pensiamo Qui bisogna mettere Della terra Che io attualmente ho Iniziamo magari a fare Anche qua Un altro campetto Solo che le carote Sono talmente poche Che finché non faccio Un mob spawner Non possiamo Bombilizzare poco E anche qui Il processo comunque è lento Per ora Finiamo il grano Poi andremo avanti A finire Tutto quello Di cui abbiamo bisogno Piano piano Non c'è fretta ragazzi Non è un let's play Di quelli rasciosi E tutto il resto Facciamo le cose con calma Eh qui avevo saltata Ah No scusami A4 No devi prendere Da là Non puoi Non puoi fare Questa cosa Quindi ok Vedete poi Sono contornati L'acqua In verità Non la becca No Quindi va bene Fare roba del genere Ho fatto il contorno a 2 In modo tale A mettere le fence qua Al vetro Quello che sarà E io poter passare Tranquillamente E poi fare Le varie farm Come dico io Qui ho tirato Un po' più avanti E va bene Per ora Ci concentriamo Sullo stato farm E tutto il resto Per il momento Poi poi vediamo Questo episodio Come girarlo Buttiamo a posto Un po' di roba A questo punto Cosa fare Allora Per quanto riguarda La casa La faremo là sopra Faremo un bel casone Quelli grossi Enormi Ma tra un po' Devo avere più materiali Devo avere già le prime farm Devo trovare il modo Di stabilizzarmi qua Nel ghiaccio Perché non è facile Capite comunque Che stare in mezzo al ghiaccio Hai poche risorse E non è facile Sarà una bella avventura Stare qui in mezzo ai ghiacci Saremo sicuramente sopra Ghiacciai Non andremo in mezzo Non faremo roba Tanto under Under ice Perché voglio comunque Stare al sole Mi piace il cli Cioè mi piace il cli Andare a un meno 20 Fra c'è il cuore A meno 20 No Ghiaccio Come cazzo era? Ghiaccio il cuore A meno 20 Fra come in Alaska Cheat Importante Forse nei commenti Di chi ha la citazione Mi pare Forse così Vabbè Già che ci sono Ve lo dico io Vi voglio far vedere La funzionalità di Aster Che ancora è limitata Però la faremo più figa Dammi il testo di Alaska Di Gemitites Ci metto un pochino Eccolo qua Alaska Gemitites Alaska Gemitites Fra mi sveglio Con il confidio Di qualche problemino In casa E' come in testa C'è un po' un delirio Ne ritrovo mezzo Sopra il comodino Accendo fra se faccia Tutto il condominio Vabbè Vabbè Era questa la canzone A un certo punto La stiamo sviluppando meglio Perché attualmente L'API si è arrabbiata Non ci dà tutto il testo Ci dà soltanto Le prime quattro righe Ma è Passeggero Quindi ci darà tutto il testo E te la leggi tutta Pazzesco Allora Assumiamo Di voler fare Questa roba col vetro Ci serve tanta sabbia Ma io non voglio scavare la sabbia Pertanto fare la farm di sabbia Ma le farm di sabbia Sono la merose Cerca su youtube Farm di sabbia Minecraft 1.14 Allora Direnatore di sabbia infinito Ma questo è vecchio Ma la farm di grano Farm di sabbia 1.15 Farm di oro domani 1.15 Figa Ah la farm di oro 1.15 La voglio vedere Perché è figa Però mi sa che Di farm Di sabbia Non ho trovato Granché O probabilmente Sono vecchie Quindi fatemi Modificare Possiamo modificare Anche la richiesta A sto punto 1.14 Possiamo fare Esatto Lui rifà un'altra richiesta E vediamo Eh no Farm di sabbia 1.14 1.15 Vediamo un po' Se posso modificare Anche questo A sto punto Modificiamo Senza diciamo Dobbiamo cambiare Un punto No Mi sa di no Mi sa di no Mi sa di no Vabbè La La vedremo La vedremo Più avanti Era carino Secondo me Trovare Andare a trovare Una farm Di sabbia Vabbè Che cosa Andiamo a fare Volevo fare La farm di carote C'ho due carote Che cazzo Di farm di carote Faccio Lice Il grano Sostanzialmente Che altro ci serve Vabbè Come dire Documentare Sulla farm di sabbia Che magari Vediamo Al prossimo episodio Che cosa facciamo Io nel mentro Ho finito anche Sta parte qua Messo le due carote Magari Ne facciamo tre Quattro E poi Poi esponenziale Sono d'accordo Ma Eh Questo ce ne da tre Questo pure Ne ho dato uno Vabbè Piano 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 Si si espande La cultura No Necessariamente La tiriamo fuori Piano piano Ma piano piano Vabbè Ma ci sta Va bene Ora Un chiave Mob spawner Dobbiamola aggiornare Al mob spawner Che secondo me È la cosa che ci serve Poi Le priorità Magari facciamo Un albo d'oro In cui ci mettiamo Tutte le to do Da fare Che ci vengono in mente Perché poi ce le scordiamo E non voglio scordarmi le cose Allora abbiamo utilizzato Sempre sto cazzo di legno Basta Quindi Significa che Fai così Fai così Fai così Fai così Fai così Fai così Cartello Tac 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 Ah 18 cartelli Secondo me Bastano La prima Dove la facciamo? Qui Sono tre slot Allora Farm Di Sand Per forza Mob Mob spawner Poi Che altro ci serve? Vabbè Vedete i gemmi Ah le farm Ok Prendere Villagers Villagers Eh beh la S Non c'è Prendere villager Piano 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 Le rimpinguiamo Qui lasciamo i cartelli Ehm Sapete che facciamo? Vieni qua Rompi il cartello E Ci rimetti Qualcosa Al posto Suo Così ne è che devo prendere Il cartello a due palle Se no ogni volta Ce ne ho sei Quattro Se posso farlo? Tac 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 Di uno Due Tre Tac Bellissimo Secondo me Questo sarà il nostro Coso delle to do Tu vieni qua Vedi che cosa Che cosa c'è da fare? Così ci segniamo tutte le cose Molto Molto smart Ovviamente Se vi viene in mente qualcosa Questo ci può aiutare Implementeremo il sistema Di to do anche su aster Poi lo passeremo su aster Questa cosa qua Tra un po' Se comunque vi viene in mente qualcosa Ditevelo nei commenti Qua sarebbe figo aggiungere Al cosa delle to do Questa roba qua To do è scritto Boh per chi non lo sapesse To do si scrive To do Cioè cose da fare Potete scrivere le cose così Tranquillamente si capisce Sono andato a fare un po' di esplorazione A sto punto Per prendere qualche risorzetto Ho trovato sta cavernuccia Che vuole esplorare C'è tanta lava Questa ci servirà un botto La lava E col cazzo Porca troia No 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 Aspetta adesso Cazzo un attimo Ok 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 Dai sfortuna Diamonds Dai e dai e dai Diamonds E daie E daie E daie E daie Allora Andiamo per gravi Prendiamo i diamonds Pazzesco Così ci abbiamo un altro piccone assicurato di diamante Siamo tutti felici e contenti Molto bene Ok ero un attimo spaventato da tutto il sistema Perfetto Questo è così lì Li dovremmo toglierla all'acqua Perché poi ci spinge un casino Però Non buttarla via Perché non si butta niente Quanto fare una cosa del genere Tanto Qui siamo protetti Nessuno può venire là Quello è un diamante Se non erro Ah col cazzo Ci andiamo noi di là Non ho i secchielli Per ora mi accontenterò Di fare una cosa del genere Per stare sicuro Di non cadere là dentro E poi andare a prendere Quello che ci serve Ah no Ho trovato la lava lì Sto Atento Sto migliorando Che ci frega Facciamo così Perfetto Poi la leviamo Questa però la volevo Per quanto riguarda questa acqua qua Stessa sorte Tac 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 E tac Bellissimo Torce a questo punto Ok Qua ci siamo ritrovati Sto perfettamente Sto mappando Bene la La caverna Raccogliamo Quello che c'è da raccogliere Andiamo a prendere Quei diamanti Lo facciamo in camera Però tutte queste risorse Le prendo off Ok Ho oltrepassato la lava C'è uno scheletro Lo sento Eccolo infatti C'è anche un cazzo di creeper Di merda Ci nascondiamo Sapientemente Ci mangiiamo una bistecca Lui verrà qua Vieni 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 Bello così Let's Let's go C'è un creeperega Visto So che ci sei Lo percepisco Ti sento Non distraiamoci Guardiamo sempre Verso il creeper Dammi questo un attimo Voglio portarlo un po' più avanti Mettere la luce qua Ed è spawnato Vabbè Sti cazzi Noi sempre attenti Però ci riveniamo qua Perché Ho comunque un carico di diamanti Importante Non voglio fare fail Non voglio stare attento Non voglio far cazzate Quindi ci prendiamo il ferro Che ci serve Ci prendiamo i diamanti E siamo qua al posto Per Guardate quanti sono Che spettacolo Eccolo lo zombie L'ho sentito Perfetto Andato anche lo zombie Ci lascia Ci saluta Per non tornare mai più Fortunatamente Prendiamo Ma quanto ferro è? Buonanima Guarda non mi lamento Anzi ci mancherebbe Sono contento Ferro ci servirà Poi per fare gli hopper Per fare le cose Ok Quindi prendi tutto Ok Ottimo E vai a prenderti Diamonds Due Mamma mia Che figata Sento qualcosa Che non mi piace Stiamo attenti Altro Diamonds Diamonds Ennesimo A che livello siamo Qua? F3 A 9 Ok Perfetto Inventario 10 diamanti Ma rega ma che cazzo Volete di più Via a casa Portare in salvo I diamanti Perché Perdere 10 diamanti È praticamente Una follia Uccidersi Ok Saliamo E via Non mi si sblocca La registrazione Possiamo dormire Sogni tranquilli Posare i nostri diamanti Tutto il bottino Che abbiamo preso C'è un creeper C'è gente C'è gente C'è un bot di gente Ok L'expo È un bot di gente Non mi piace sta cosa Che spawna la gente Qua possono venire da noi Non è Non è buono Non è buono Aspetterò che Oh E tu Adesso fai Ok Chill Pasa tutto Ferro Cuocere Call possiamo dividerlo Tranquilli Tac Facciamo 40 Va benissimo Attenti che non sia arrivato Nessun creep No Dobbiamo stare attenti Guardate Esplode un creeper Qua fai danni veri Questo lo posiamo Questo lo posiamo Questo lo posiamo Vabbè Mi prendo un po' di Ho un'ansia Da ripetere Questo mi prendo Perché lo Bombillizziamo qualcosa Ha anche un Un arco Vabbè Non lo utilizzeremo Ma lo prendo Tengo qua Per ora Voglio utilizzare il bombill Vieni qua Vieni qua No No A parte che sta nell'acqua Quindi non dovrebbero fare Casino le esplosioni Non dovrebbe Rompere roba Ok perfetto Lo uccidiamo Better I miei messaggi Danno il grafico Di Aster Lui Ah c'è Un cazzo di creeperone Attento Vieni qua Buonissimo Ciao creeper Let's go Ok carote Perché me ne dai due Perché non le ho bombillizzate bene Ok Ah ok Tac Sì Meglio le carote Che altro Per ora Bam Perfetto Meglio le carote Che altro Che ci fanno comodo Un po' di carotine Ci sta Ok Facciamo questo Adesso che possiamo fare Perché tanto qui c'è Ah no ma scusate Eh lì c'è Qua no Ce la devo mettere Ok ragazzuoli A sto punto andiamo a piazzare Le carote qua No non le devi mangiare Cioè Prima o poi sì però Poi più Proprio che prima Esatto Qua finiamo La farm di qua Io penso che per questo video Possa tranquillamente Essere tutto Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo di lasciare mi piace Se vi è piaciuto Vi sta lasciando questa serie Direi che Un bustino Un incrementino Di mi piace Possiamo farlo Passate in tutti i link in descrizione Se volete informazioni su Aster Trovate tranquillamente La pagina Instagram C'è anche la mia pagina Instagram E tutto il resto Ragazzuoli Ci vediamo Come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti